Il Consorzio per la tutela dello zafferano dell'Aquila DOP nell'ambito del progetto I Sapori dello Zafferano organizza un evento finale nella sede municipale di Navelli, mercoledì 8 agosto, in collaborazione con il Comune di Navelli e la Proloco di Navelli. Dalle ore 17 saranno proposti workshop di analisi sensoriale e degustazione con un esperto riconosciuto dal Centro Studi Assaggiatori, leader del settore. Analisi sensoriale dell'olio d'oliva con esperti dell'Associazione Rustica e Gentile della Valle Peligna. Piccola dimostrazione sull'uso dello zafferano da parte dello chef Lino Guarascio de Il Borgo dei Fumari di Prada d'Anzidonia. Abbinamento e degustazione di vino con l'antica casa vinicola Italo Pietramonti di Vittorito. Si parlerà anche del presidio Slow Food del Cece di Navelli. I workshop sono mirati a operatori e ristoratori della zona di produzione del nostro zafferano e hanno il patrocinio della Scuola del Gusto Abruzzo e la rete di cooperative agricole di confcooperative qui da noi. Qui aderisce lo storico e principale produttore di zafferano dell'Aquila, la cooperativa Alto Piano di Navelli. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 329 80 09 732 oppure all'indirizzo email info-zafferano-dop.it A seguire presentazione dei risultati di progetto e aperitivo cenato buffet aperto a tutti. Ogni parte dell'evento è completamente gratuito. Grazie. 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 Grazie.